durata a due anni condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che ha portato a 18 misure cautelari di persone coinvolte in un vasto scandalo ambientale nelle province di Catanzaro, Vibo e Cosenza. L'ordinanza del giudice è stata seguita all'alba di oggi dai carabinieri del comando tutela ambientale e sicurezza energetica e del comando per la tutela forestale dei parchi. Le accuse principali riguardano l'inquinamento ambientale, frode nelle pubbliche forniture e associazione a delinquere. Quattro persone sono finite in carcere tra cui i titolari delle società coinvolte e il loro referente principale. Altre 13 sono i domiciliari mentre uno è sottoposto all'obbligo di presentazione alla procura generale. Cinque pubblici amministratori sono indiegati nell'ambito delle cinque vaste rete di reati. Un'indagine condotta tra il 2021 e il 2022 che hanno svelato una serie di condotte illecite legate al trattamento delle acque e dei rifiuti. Il procuratore di Catanzaro facente funzioni Vincenzo Capomolla ha dichiarato in conferenza stampa che l'intervento dei carabinieri del nucleo ambientale e forestale è stato essenziale per le competenze specializzate necessarie. La società al centro dell'inchiesta sembra aver gestito depuratori in tutte e cinque le province calabresi, aggiudicandosi servizi con ribassi massimi nel legale d'appalto. Ciò avrebbe portato risparmi enormi a scapito dell'ambiente con sversamenti illeciti e mancata manutenzione degli impianti. Capomolla ha sottolineato che l'operazione rivela che la mala depurazione è soprattutto il risultato di una gestione illegale. Un totale di 34 depuratori è coinvolto, interessando 40 comuni nelle cinque province, ma la società gestiva anche altri impianti. In un caso il ribasso del 54% rispetto all'importo delle gare avrebbe causato risparmi sui costi, limitando il controllo e la manutenzione degli impianti e portando sversamenti illeciti. Il danno ambientale è stato evidenziato dai rilevi di lega ambiente alla foce del fiume Beltrame, con valori di inquinamento più del doppio rispetto ai limiti previsti. Capomolla ha indicato che si tratta di un danno ambientale permanente notevole. L'indagine ha anche rilevato reati di frode nelle pubbliche forniture, in un parte dovuti ad un difetto di vigilanza da parte della pubblica amministrazione. Alcuni amministratori pubblici sono stati destinatari di avvisi di garanzia, mentre in altri casi è emerso un controllo rigoroso da parte delle amministrazioni comunali. L'inchiesta della DDA di Catanzaro si estende anche a un caso di tentata estorsione a un dipendente che reclamava diritti sindacali nel Cirotano. Tra i casi emblematici citati dal procuratore c'è l'impianto di Caraffa di Catanzaro, considerando un esempio di inquinamento ambientale e irregolarità gestionale.